Yogi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi, in questa nuova puntata di Yogi Mitologia, andremo ad analizzare uno degli archetipi che a mio parere risulta il più interessante del TGC, ovvero Eldlich. Si tratta di un mazzo che affonda in sé leggende e credenze riguardanti un'antica città e una magica pietra capace di trasformare qualsiasi cosa in oro. Ma ovviamente, prima di polerarvi tutta la storia, facciamo un attimo un passo indietro e iniziamo col parlare della carta magia Spettro Elisir del Risveglio Nero. L'artwork di questa carta rappresenta il preludio della nostra storia, in cui l'ego e la vanità di alcuni uomini portarono un'intera città alla distruzione. In un periodo non ben definito, alcuni saggi presi dal potere decisero di offrire la vita, probabilmente degli abitanti della loro città, per poter liberare la magica pietra Edlixir. Quest'ultima, da come ci viene mostrato nell'artwork di Spettro Elisir del Destino Bianco, si risvegliò in maniera incontrollata. Infatti, un'enorme luce di color rosso cremesi illuminò tutto lo spazio circostante, visibile anche dall'esterno del palazzo. E nel breve tempo qualcosa cambiò. Tutta la città improvvisamente diventò d'oro e sia le persone che la fauna locale si trasformarono in non morti. Nel corso del tempo, la pietra attirò sé numerosi avventurieri, a cui spettò un infausto destino. Finché, ad un certo punto, un uomo con la volontà disumana cambiò le cose. La sua forza gli permise di prendere il controllo di quel potere. Così, da quel momento, nacque Edlix, il Signore d'Oro, un essere senza precedenti per la sua avidità e sovrano della terra d'oro. Il suo desiderio non si limitava alla conquista solo di quel luogo, ma voleva estendere il suo potere al mondo intero. Edlix, per perseguire i suoi obiettivi, eseguì un rituale che concentrasse su se stesso tutta la maledizione dell'oro e così si alzò il sipario sulla sua marcia per la conquista del mondo. La leggenda di questa città, governata dall'oro e dalla non morte, spettraterra maledetta, è conosciuta in tutto il mondo e narra appunto che coloro che sono così avidi da esplorarla di fatto sono una fonte costante di carburante per un potere sempre crescente della pietra. La spettata maledizione, quindi, non fa distinzioni su chi o cosa intrappola. Viaggiatori affamati d'oro, eserciti di oltremare alla ricerca di nuove terre da conquistare e le bestie native della città stregata vengono trasformate in oro immortale. Detto ciò, vediamo quali sono gli elementi che la Konami ha ripreso per poter creare le carte. I due elementi principali di questa storia, di cui l'azienda fa uso, sono la pietra filosofale e la città il dorado. Partiamo dalla pietra filosofale. Cos'è? Questo particolare oggetto alchemico possiede tre caratteristiche principali, due delle quali si adattano perfettamente alla nostra ricostruzione, ovvero trasmutare i metalli veli in oro e fornire un elisir di lunga vita capace di conferire l'immortalità, costituendo la panacea universale per ogni tipo di malattia. Nelle tre carte spetto il elisir del risveglio nero, del destino bianco e del sanguigno scarlatto, l'aspetto della pietra cambia. Per capire questo, ora possiamo analizzare il contenuto del magnum opus, ovvero l'itinerario alchemico di lavorazione e trasformazione della materia prima finalizzato alla realizzazione della pietra filosofale. Esistono quattro fasi, ovvero nigredo, annerimento o melanosi, associato all'elemento terra, albedo, sbiancamento o leucosi, associato all'elemento acqua, citrinitas, ingiallimento o xantosis, associato all'elemento aria, e per concludere rubendo, arrossamento o iosis, associato all'elemento fuoco. La conoscenza di queste fasi risale almeno al I secolo d.C., ma dopo il Medioevo molti scrittori furono propensi a prendere in considerazione solo tre di esse, inglobando la citrinitas nella rubendo. Il nome di questo archetipo, Eldlich, è la fusione di Eldritch, ovvero una parola inglese utilizzata per descrivere qualcosa di ultraterreno, strano, spettrale, inquietante. Elitch, termine che identifica un mago o più in generale un incantatore che ha ottenuto l'immortalità attraverso la magia nera, trasformandosi in un non morto, conservando però la propria volontà e i poteri magici. Durante la metamorfosi, l'uomo perde la sua anima, che deve essere conservata all'interno di uno speciale recipiente, il filatterio, e distruggerlo è l'unica maniera per uccidere la creatura. La sola eliminazione del suo corpo fisico porterà semplicemente il Leitch a un processo di ringiovanimento, ovvero la creazione di un nuovo corpo dopo un certo periodo di tempo. Allo stesso modo, la carta Golden Lord ha la capacità di essere rievocata ogni volta che essa viene mandata al cimitero. Infatti, analizzando bene l'artwork, possiamo notare che probabilmente la sua anima è situata all'interno della pietra che lui stesso tiene sul petto. Spostiamoci adesso sulla carta magia Spettraterra Maledetta. Questa carta ricalca una delle città più famose di sempre, ovvero Eldorado. Si tratta di un luogo leggendario in cui vi sarebbero immense quantità di oro e pietre preziose, oltre a possedere conoscenze esoteriche antichissime. In questo luogo, situato al di là del mondo conosciuto, i bisogni materiali sono appagati e gli uomini vivono in pace tra loro, godendosi la vita. A seguito della scoperta delle Americhe, il mito di un luogo leggendario e ricchissimo si rinforzò. Gli indigeni americani che facevano largo uso di monili in oro fecero pensare agli europei di essere giunti vicino ad un luogo mitico, ricco e pieno di oro. Le due carte, Conquistatore e Aquero della Terra Dorata, rappresentano proprio questo fenomeno. Uno dei primi spagnoli a partire fu Juan Ponce de Leon, che nel 1513 cercò la fonte dell'eterna giovinezza, leggenda che aveva preso le sue origini nel medievale Romanzo di Alessandro. Furono i tesori riportati Spagna dai conquistadores a spingere i banchieri Valzer di Augusta a farsi coinvolgere nella ricerca dell'Eldorado. Ovviamente la sete di ricchezze spinse anche numerosi pirati alla ricerca di questi tesori, soprattutto tra il 1570 e il 1720, periodo in cui la pirateria prosperò. Ma alla fine, cosa c'era di vero in tutto questo? Il mito di una città d'oro perduta avrebbe messo radici all'interno dei rituali delle tribù indigene, che vivevano intorno al lago Guataviva, situato sulla cortigliera delle Ande. Ogni anno lo zippa della tribù, soprannominato Eldorado o The Golden One, veniva ricoperto di resina e polvere d'oro fine, prima di essere immerso nelle acque del lago Sacro. Inoltre poi, molti ornamenti venivano gettati all'interno della laguna come offerte alla divinità. Il primo spagnolo ad essersi informato su questo rituale fu Sebastian de Belalcazara, e così si originò il mito dell'Eldorado, che deriva dalle parole in lingua spagnola El Indio Dorado. Nel 1545 i conquistadores Herman Perez e Lazaro Fonte tentarono senza successo di prosciugare il lago, con la semplice tecnica della catenomana, dotata di recipienti, che venivano passati di mano in mano, asportando piccole quantità d'acqua. Dopo solo tre mesi il livello si era abbassato di tre metri, ma solo modeste quantità di oro e pietre preziose vennero recuperate, per un valore di circa 3.000-4.000 pesos. Nel 1580 fu tentato un'operazione di recupero più complessa, messa in atto dall'imprenditore Bogotà Antonio. Sul bordo del lago venne scavato con zappe e picconi una sorta di canale profondo 15 metri per far defluire gradualmente l'acqua. Dopo mesi di lavoro si effettuò l'incisione finale sul bordo del lago, dal quale fuoriuscirono enormi quantità d'acqua. Così il livello iniziale venne ridotto di 20 metri, ma poi le pareti del canale, ovviamente non sufficientemente rafforzate, crollarono, uccidendo numerosi lavoratori nativi seppelliti dalla fanghiglia. Successivamente, nel 1889, fu creata la società The Company for the Exploitation of the Lagoon of Guatavita, grazie alla quale fu scavato un tunnel di scolo sotterraneo per realizzare un foro al centro del catino del lago. Con questa tecnica il lago fu prosciugato con successo, e quasi completamente, lasciando sul fondo poco più di un metro di fanghiglia e sedimenti. Questo però rese molto difficili le individuazioni di reperti al suo interno, tanto più che esposto all'aria, ben presto il fango si solidificò, creando zolle compatte simili a cemento. Sfortunatamente i ritrovamenti di preziosi non superarono il valore di 500 sterline, e successivamente i preziosi vennero messi all'asta. La società infine andò in bancarotta e cessò le sue attività nel 1929. Bene ragazzi, con questo abbiamo finito. Ovviamente, come mio solito, ho fatto sempre troppo, però voglio che riusciate ad apprezzare appieno la storia di ogni archetipo che andiamo ad analizzare. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione potete trovare il link di Magic Corner, il mio sponsor, dove con il codice sconto 2022 cappello potete ottenere il 10% di sconto su carte singole o prodotto sigillato. Inoltre, trovate anche Twitch e Instagram, nel caso mi vogliate seguire anche fuori da questa piattaforma. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate e quale altra loro vorreste vedere sul canale. Quindi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!